SORRESA! Non diamo di alcol. Ho trovato uno che ci può vendere dell'erba. Ma sei pazzito? Io non faccio una deviazione per la casa di uno spacciaerba. Ha un gusto fruttato. Lui è Ramsay. Il figlio che non ha mai avuto. Cosa ci fa Ramsay in camera mia? E non mi sembra il caso il giorno che mi sposo. Scusa. Credo di aver preso la borsa di lei per sbaglio. Non si ruba la droga uno come lei. Non è tardi per scappare. Oh cavolo, abbiamo perso Luke. Del discorso del testimone ti occuperai tu. Quella è la coca di lei? Tanto sei rincoglionito ugualmente. Sicuro? Buon pomeriggio Barbara. Quella è cocaina? Sì. Volete restare lì a bocca aperta? Strisce a me! Qualsiasi cosa stia succedendo, tu devi risolverla. Il discorso del testimone dello sposo. Tette? Tette. Dovrebbe essere il giorno più indimenticabile della mia vita. Perché non lo è? Gram! Sì? Sai fare la bocca a bocca? Non sugli animali da fattoria! Non è quello che sembra. Tom? Barbara? Non è che vi servono asciugamani... puliti? Graeme... Servono asciugamani? Ehm... No grazie Barbara! Ehm... 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 Ehm...